Buongiorno, mi chiamo Micozzi Lauro, abito a Macerata, gli anni non ve li dico perché sono troppi, sono nato troppo presto, sono un collezionista Ducati dai primi anni 70, sono sempre stato dietro a questa marca, poi ho avuto anche altri motocicletti, ho vareggiato in moto per, non lo so, ho cominciato, ormai sarà più di 40 anni. Vi vorrei presentare questa mia collezione di Ducati e un paio di laverda, una laverda SFC elettronica con la quale ho corso nel 75-76 e una laverda 500 bialbero 4 valvole 6 marci di 1977 da Strava.